speciale covid-19 la fase 2 uscire dall'emergenza in corso il cinema al tempo del covid-19 appunto ne parliamo oggi con Gianluca Cerasola produttore cinematografico e regista ed Elisabetta Pellini nota attrice di serie tv cinema e tante altre belle produzioni buongiorno 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 a tutti e allora iniziamo da Gianluca dopo il documentario sulla vita di Samantha Cristoforetti nel 2016 Astro Samantha protagonista della seconda missione di lunga durata dell'agenzia spaziale italiana ecco Starman il nuovo film dedicato a Luca Parmitano come è nata la tua passione per lo spazio o se è del tutto casuale questi due straordinari docufilm? No è del tutto casuale io sono interessato all'innovazione alle cose particolari alle novità quindi nel 2015 ho sentito che c'era la preparazione di una donna alcuna donna italiana nello spazio e ho iniziato a a documentarmi su questo filone dopodiché eh nel ho avuto la possibilità di incontrare di conoscere Luca Parmitano quindi abbiamo affrontato abbiamo realizzato questo tema realizzando un un documentario a mio avviso unico perché abbiamo lavorato e affrontato per la prima volta l'ambito intimistico di un astronauta abbiamo raccontato tutto il dietro le quinto il dietro le quinte della preparazione di una missione e quindi con Luca Parmitano abbiamo lavorato sul sul filone di tre continenti su negli Stati Uniti in Europa in in Giappone tutta l'Asia eh e soprattutto anche in esclusiva con luoghi mai visti prima quindi diciamo che il mio interesse è legato all'esclusività alle alle novità e ai temi che secondo me possano essere apprezzati dal pubblico che poi guarda quello che realizziamo. Ecco Starman racconta la preparazione come detto dell'astronauta italiano Luca Parmitano per la missione Bayhound ma c'è molto di più perché perché è stato scoperto appunto un lato di Luca Parmitano che pochi conoscevano anzi forse nessuno una l'uomo 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 Luca l'uomo Luca Parmitano oltre che l'astronauta come è stato anche per te eh che hai curato la regia a scoprire questo lato. Beh diciamo che con Luca ormai siamo diventati eh insomma non dico intimi però quasi perché siamo stati a contatto per tre anni le le durata la durata di questo set è stato è stato tre anni tre anni di riprese in giro per il mondo eh purtroppo con il coronavirus abbiamo rallentato di molto le le riprese abbiamo purtroppo allentato alcuni viaggi che avremmo dovuto fare negli Stati Uniti e in Russia però eh la parte intimistica che abbiamo voluto raccontare in questo documentario credo abbia ci abbia portato a fare un qualcosa di di innovativo eh tra l'altro abbiamo eh raccontato anche dei record perché Luca Parmitano come dicevi tu prima è il primo uomo italiano ad essere uscito nello spazio ed è anche l'unico italiano ad essere uscito nello spazio ed aver comandato gli americani e i russi eh insomma che il che ci fa ci fa onore come come italiani aver avuto la possibilità di di averlo di averlo seguito durante questa importante missione e averlo documentato con un documentario sia a terra che in orbita eh essendo una una cosa tra virgolette unica mi ha fatto piacere per l'abbiamo raccontata in ambito cinematografico con con questo documentario Starman appunto l'uomo delle stelle che si può trovare eh purtroppo in questo momento si trova on demand perché hanno chiuso come dicevamo prima per l'ambito covid tutti i cinema le sale cinematografiche quindi con il distributore abbiamo cercato di trovare delle nuove formule di di distribuzione. Io sono ancora più contento perché da siciliano ha inviato delle foto parmitano dalla dallo spazio fantastiche della Sicilia di tutto il mondo ma della Sicilia particolarmente. Lui è molto legato alla Sicilia cioè è molto legato anche lui ha una dieta molto particolare fa l'atleta quindi nel documentario raccontiamo anche tutte le sue bizzarrie dal punto di vista alimentare dal punto di vista sportivo però lui è molto legato anche alla Sicilia quindi lui fa una dieta molto particolare molto rigida però ogni tanto insomma si lascia si concede a all'ottimo cibo siciliano quindi anche negli Stati Uniti dove lui vive e lavora in questo momento abbiamo avuto delle ci siamo fatti delle mangiate siciliane particolari. Bene senti Gianluca come detto tu poi è arrivato il covid-19 il coronavirus qualche giorno fa Vision Distribution ha annunciato che Starman il documentario appunto da te diretto è prodotto da Morol inizialmente previsto in sala come evento cinematografico sarà invece appunto reso disponibile on demand su varie piattaforme nell'ambito appunto della campagna Io resto a casa. Come quindi la pandemia questa è una domanda d'obbligo che devo farti sta cambiando il vostro lavoro e quali sono gli scenari anche del prossimo futuro? Beh il covid ha totalmente modificato ogni tipo di rapporto che noi produttori avevamo con l'ambito cinematografico e anche con l'ambito televisivo quindi lo spettacolo è stato completamente stravolto. Le sale cinematografiche sono state sono state chiuse ad oggi a maggio ancora non abbiamo un'idea chiara di quando riapriranno le sale cinematografiche e come verranno strutturate poi perché ovviamente anche la riapertura delle sale era delle sanificazioni, delle distanze obbligatorie quindi ha rivoluzionato e rivoluzionerà ancora moltissimo il nostro settore cinematografico e televisivo purtroppo o per fortuna diciamo noi con il distributore abbiamo deciso di far uscire Starman sulle diverse piattaforme on demand e quindi è possibile trovare Starman documentario di Luca Parmitano in televisione su Sky Prima Fila, su Team Vision e le varie piattaforme digitali e come stanno facendo gli altri le altre prime cinematografiche, gli altri produttori, gli altri registi che dovevano uscire al cinema in questi giorni e purtroppo sono stati obbligati a trasmettere in televisione. Tra l'altro stavo leggendo delle statistiche, mi dicevano che tutti gli attuali spettatori di film on demand, delle attuali piattaforme, anche se un domani mi auguro che avvenga il più presto possibile, un domani dovessero riaprire le sale cinematografiche molti di loro comunque rimarrebbero affezionati al cinema on demand. Io questo credo, ne sto parlando perché credo che comunque il cinema e anche la televisione si sta, si rivoluzionerà da questo punto di vista, anche se comunque, lasciatemelo dire, le sale cinematografiche con il grande schermo, insomma, sono insostituibili, quindi insomma, diciamo che il cinema io lo apprezzo e continuerò ad apprezzarlo, anche se poi cambierà inevitabilmente sia per la produzione che per la riproduzione. Senti, su Starman ho qualche altra curiosità ma ne parliamo tra poco, intanto passerei la palla a Elisabetta Pellini, ciao intanto Elisabetta, tu hai un curriculum incredibile, hai girato tantissime serie tv tra Rai, Canale 5, di grandissimo successo, Incantesimo 5, ci abbiamo anche qua, ecco qua, Distretto di Polizia, Un Medico in Famiglia, Elisa di Rivombrosa, cioè tutte serie stranote. In attesa di cambiamenti con Gianluca Cerasola, che è un film che abbiamo fatto insieme, prodotto da lui anche. Esatto, in attesa di cambiamenti con Gianluca Cerasola e poi tantissimi spot pubblicitari firmati da straordinari registi come la Comencini, Ospetec e tanti altri, però una delle cose che mi ha colpito di più della tua lunghissima carriera, che proprio appena l'ho letta, ti mi sono riacceso, mai dire gol, mai dire gol. No! Insomma, hai iniziato da lì, no? Beh sì, hai iniziato, diciamo, per gioco con un concorso bellissimo, nel 95, condotto da Alberto Castagna, anzi ancora prima con un altro concorso, Miss Buona Domenica, condotto da Jerry Scotti e poi mi hanno fatto un contratto per Mediaset, ho iniziato appunto con Aldo, Giovanni e Giacomo, dove loro, per mai dire gol, facevano i Tarzanelli, io Jane e pensa che quella trasmissione, quegli sketch, recentemente ho fatto un provino per uno spot che mi hanno girato, ma purtroppo a causa del coronavirus è rimasto un po' bloccata, cioè quindi la visione ancora non è andato in onda, dove faccio Jane e il regista si ricordava che facevo Jane nei spot dei Tarzanelli, quindi insomma mi ha portato bene ed è tornato a distanza di tempo. Prima parlavi di Sicilia e volevo dire una cosa, che io ho appena finito la mia prima regia di un film che ho scritto il soggetto sulle manie dei selfie, un film episodi e ho fatto la regia di un episodio proprio in Sicilia, Santo Stefano di Camastra, il paese della ceramica, assolutamente sì, innamorata di Santo Stefano, diciamo che l'abbiamo girato a gennaio, ora stiamo facendo l'editing e a causa del coronavirus purtroppo ci siamo fermati, ma è uno degli ultimi film appunto che sono stati girati e sono felice in Sicilia perché al di là della bellezza, la generosità proprio della gente siciliana, si è fatta coinvolgere in questo progetto con più di cento comparse, cosa che considerando i nuovi progetti proprio, dei nuovi film eccetera di protocollo sarà quasi impossibile ora girare in esterno e con delle comparse, ho letto delle cose che si parlava di comparse in digitale, insomma comunque. Adesso ne parliamo infatti Elisabetta perché tu sei un'attrice al di là di quest'ultima produzione di gennaio, quindi ancora quando non era scoppiata la pandemia, come stai vivendo invece l'approccio a quella che sarà la fase 2 o la fase 3, nel vostro caso di attori che vanno poi in un set a recitare, cioè quali sono anche i risvolti proprio pratici che un attore dovrà affrontare nel relazionarsi a questa fase 2? Guarda è ancora tutto molto molto incerto, l'unica certezza è che l'attore è uno dei pochi personaggi diciamo che non metterà la mascherina, che quindi si abbraccerà, avrà scene con baci eccetera eccetera, quindi da quello che ho capito gli attori sia con il regista che quando dovranno fare i casting, perché non è che è un casting l'attore può mettersi la mascherina, dovrà appunto togliersi la mascherina. So che faranno dei tamponi prima di iniziare il set, durante il set e alla fine del set, questo un po' per gli attori, ma da quello che ho capito un po' per la sicurezza di tutta la troupe. Quindi gli attori da quello che ho capito fino adesso, ma sono tutte notizie che insomma stiamo aspettando un reale protocollo che è valido per i produttori e di conseguenza poi per tutto quanto, con l'assicurazione eccetera eccetera. Per una volta che ci sarà un protocollo, per ora ci sono tante ipotesi. L'unica certezza è che la maggior parte dei film, appunto, gli attori saranno appunto a viso nudo, sprovvisti di guanti, cioè come se, come prima del coronavirus. È per forza d'obbligo, altrimenti come non si possono fare film con la mascherina. Eh, capito? No, vabbè, a meno che io racconti una storia così e comunque un attore comunque si espone. Assolutamente. Deve fare una vita modigerata, deve stare in clausura, non deve uscire, altro che eventi, cose. Certo, no, no, no. Cambia anche uno stile di vita se vuoi, no? Assolutamente. Diciamo che la mondanità che c'era prima, perlomeno sul set, sicuramente verrà preclusa, diciamo che... Sì, ma anche precedente, cioè anche prima del set, perché comunque devi essere pronto per poter garantire... Assolutamente. Il problema reale è proprio con le compagnie di assicurazione, perché adesso si sta lavorando a un protocollo con il Ministero che faccia in modo che il film e i produttori possano essere, e anche gli attori, tutta la troupe, il film stesso possa essere assicurato, perché altrimenti, pensate se nel mezzo delle riprese qualcuno si ammalasse, diventerebbe un problema importante, dovremmo mandare tutti in quarantena e avere dei danni per centinaia di migliaia di euro, diventerebbe un massacro, quindi stiamo cercando di mettere a punto e capire come formulare il tutto e come vincolare e cercare di restringere al minimo i rischi. Quindi controlli prima e dopo il set, mascherina per gli attori durante... quando non sono in scena, luoghi... Tra l'altro un'altra cosa molto importante che è stata poco affrontata in questi giorni sono i costi, perché ci saranno enormi costi per i produttori per la sanificazione, per mascherine, guanti, attrezzature, igienizzazione, distanza, luoghi, mezzi per gli spostamenti, quindi bisogna anche capire come questi costi verranno affrontati e se ci saranno degli aiuti governativi e mi auguro che il Ministro della Cultura Franceschini ci invia una mano su questa linea. Lo chiedo ad Elisabetta ma mi piacerebbe una risposta anche da parte di Gianluca, un po' ce lo siamo detti prima nel Fuorionda. Secondo voi questa situazione limiterà un po' la creatività nell'ambito dello spettacolo, cioè immagino che un regista, uno sceneggiatore che prevede, non so, un assembramento di 3-4 attori vicini, magari anziché metterne 3-4 ne metterà 2 oppure limiterà un po' quello che era magari un'idea iniziale di una scena dove erano previste più persone. Non so, vado un po' a immaginare certe situazioni. Secondo voi accadrà questo oppure no? Elisabetta, cominci tu? Cominci io? Ma secondo me sì, in qualche modo accadrà, poi io penso che la cosa importante sia la storia. Se ripensiamo i film che sono dati anche meglio, che sono piaciuti di più, quello di Genovese, era tutto ambientato in una casa con tanti attori, cioè 5-6 attori ma tutti ambientati in una casa, quindi sicuramente verranno privilegiati gli interni e le storie fatte in interni, purtroppo. E però insomma se c'è una bella idea, una storia indipendentemente da quanti attori venga realizzata, vince l'idea. Certo ci deve essere un coinvolgimento emotivo, ci deve essere un'idea molto forte e quindi diventa anche più stimolante. Poi insomma speriamo di poter raccontare le storie con maggiore libertà come avevamo prima, di sconfiggere questo maledetto virus, di non aver più paura a nessuno, di un abbraccio e di non guardare gli abbracci solo al cinema o con i nostri congiunti. Da un punto di vista produttivo questo potrebbe essere anche una nuova formula per l'innovazione, per proporre cose nuove, quindi così magari noi produttori, registri, sceneggiatori possono trovare delle nuove idee per questa formulazione del nuovo cinema della nuova televisione che sta avvenendo, quindi sicuramente allo stato attuale ci sono dei limiti, quindi i produttori sicuramente durante la fase di scrittura imporranno dei limiti per effigenze legate al coronavirus, però magari in un futuro, in un prossimo futuro mi auguro che questi limiti possano invogliarci a creare nuove cose, quindi magari potrebbe essere un lancio per un nuovo futuro di scrittura. A proposito di lancio, visto che siamo in terra, torniamo un attimino a Starman, perché so che c'è un cameo, ci sono vari camei, c'è anche Lorenzo Giovanotti, Giancarlo Giannini, ma per dare un'idea anche a coloro i quali non sono addetti ai lavori, quante persone occorrono per realizzare un prodotto come quello appunto che hai appena fatto uscire tu? Quante persone ci sono dietro? Dipende dal tipo di prodotto che si realizza, diciamo che sulla documentaristica noi abbiamo realizzato questo documentario attraverso tre continenti con un totale di circa 30 persone in totale. Quando si fanno invece le serie televisive o i film, dipende dal tipo di film, però possono essere anche molti e molti di più. Abbiamo lavorato poi con diversi, tieni conto che poi comunque a secondo del tipo di progetti che tu realizzi, noi abbiamo lavorato in questo contesto con dei talent, quindi con Giovanotti, che tra l'altro è un carissimo amico di Isabetta, con Giancarlo Giannini, e quindi è stato tanto pensare, spostarci all'interno da un set all'altro, quando abbiamo girato con Giancarlo Giannini, poi tutte le persone che sono attorno ai vari talent, ai vari attori, gli agenti, gli avvocati, insomma è una sorta di, diciamo che attorno all'ambito cinematografico e dello spettacolo ci lavorano tantissime persone, quindi speriamo che in questa situazione diventi quanto più possibile, fruibile e tranquilla. Elisabetta, tra l'altro, Lorenzo Giovanotti, prima della coronavirus, ha fatto un viaggio straordinario per le Ande, quindi insomma è riuscito a godersi un tour fantastico, che ho avuto modo di vedere su RaiPlay. Senti, vi faccio un... Lorenzo Giovanotti, tra l'altro, ha fatto con Luca Parmitano, è stato l'unico... Luca Parmitano dallo spazio ha fatto un concerto, si è collegato con un concerto allinate con Giovanotti, il primo concerto dallo spazio l'hanno fatto insieme, quindi insomma viene raccontato anche in parte nel documentario, che stiamo facendo anche nel posto, insomma è molto particolare, è molto particolare, mentre invece Giancarlo Giannini è un grande appassionato, io non sapevo che Giancarlo Giannini avesse costruito degli oggetti, degli oggettistica anche di ambito tecnico e ingegneristico, quindi è un appassionato di spazio e di ingegneria, quindi è per quello che li ho convolti nel documentario Starman. Voi lavorate nel mondo dello spettacolo, non posso che farvi quest'ultima domanda, che riguarda appunto quello che stiamo vivendo e come lo abbiamo vissuto. Un'immagine che secondo voi rimarrà nella storia di questa, sia un'immagine positiva che è un'immagine magari anche un po' negativa, sicuramente negativa, quali sono secondo voi quelle che vi hanno colpito di più e che rimarranno nella storia per sempre, che ricorderanno dal punto di vista appunto di quello che sta accadendo la pandemia di coronavirus? Allora, un'immagine positiva molto bella è stata quando appunto il Papa ha fatto la benedizione a San Pietro con la piazza vuota, lui insomma è stato molto intensa con l'immagine. Un'immagine negativa del coronavirus, un'immagine positiva di questa quarantena è la città a Roma per esempio bellissima, vuota finalmente di gente, di traffico, un'aria pulita, i cinghiali che tornano tra i quartieri, insomma e anche adesso nella fase 2 poter girare per Roma in bicicletta io non l'ho mai usata, però insomma devo dire che è bello, è surreale vederla così vuota, ma insomma ne godi ancora di più della sua bellezza. Le negative sono le autoambulanze, cioè durante il coronavirus si sentivano vigili, le autoambulanze quindi in silenzio totale si sentivano questi suoni così. Bello è girare tra i quartieri almeno in prati, giri l'angolo e mi sono trovata in situazioni dove mi sono veramente emozionata con la gente, con la musica che ballava dalle finestre, cantava, ecco queste sono cose che ti fa sentire la socialità e speriamo che questo appunto coronavirus di positivo porti appunto un maggiore rispetto per il prossimo e anche per l'ambiente. Poi bello è stato che comunque il cinema ha resistito perché a Berlino ma anche a Roma hanno proiettato film sui palazzi, con gli attori e i registi che uscivano dalla finestra e presentavano i loro personaggi, quindi anche questo secondo me è una cosa non trascurabile. Ora vogliono aprire un drive-in, leggevo prima, sempre a Roma, insomma tutte le città d'Italia per cui insomma c'è speranza anche perché appunto sono tante le persone che lavorano in questo settore ma soprattutto non solo gli attori, i produttori ma dietro e quindi insomma dobbiamo dobbiamo sostenere il nostro paese, Made in Italy in tutto compreso il cinema che è la cartonina più bella che possiamo dare nel nostro paese anche all'estero, tiè. Io invece per quanto riguarda il coronavirus di positivo ci vedo quasi nulla, la parte naturalistica questa forse magari sì, però per il resto io cancellerei questo 2020 in toto dal punto di vista economico che sociale, però a parte questo insomma come diceva Elisabetta il cinema sta resistendo, purtroppo ci sono dei festival importanti, c'è il festival di Cannes che è stato appena annullato, lo stanno riformulando adesso insieme al festival di Venezia, bisognerà capire come verrà realizzato, pare che si faccia una versione digitale, quindi che si possa vedere su internet o su web, però non so come e soprattutto bisogna anche capire quali ospiti possano far venire perché il presidente che doveva venire dagli Stati Uniti per il festival di Cannes ovviamente non verrà più, quindi è anche un problema per capire se tutti gli ospiti poi si connetteranno in videoconferenza, così come hanno fatto i Davide di Donatello praticamente in videoconferenza. Certo, è tutta un'altra atmosfera, cambia totalmente la linea sociale che c'era prima con i festival, l'unico festival che allo stato attuale è in pole position, perché comunque è quello ultimo che c'è e che lo faranno ad ottobre, è il festival di Roma che allo stato attuale, con Antonio Monda che è in pole position, dovrebbe essere tutto confermato e pare che sia l'unico festival che in questo momento non subisca d'anni, mentre tutti gli altri, compreso Venezia, stanno riformulando la loro uscita. Ma quindi ci sarà un drive-in per il festival di Roma? Pare che ci siano anche delle uscite su questo genere, mi sembra insomma un'idea innovativa, una cosa unica, anche per l'estate potrebbe essere un'idea originale, portare i cinema all'aperto, che ci sono sempre stati nelle più importanti città, però in questo momento facendoli vedere dalla macchina in tutta sicurezza potrebbe essere anche divertente, un ritorno agli anni sessanta in maniera attuale. Molto romantico, dai. Bene, bene, il cinema quindi al tempo del Covid-19, grazie a Elisabetta Pellini e a Gianluca Cerasola. Grazie a voi. Grazie a voi, ciao.